Come ti chiami? Dari Dari, da dove vieni? Da Cuba Viene da Cuba Cosa fai di bello nella vita? Fa la casa l'India E come vorresti un uomo ideale? Un uomo nella piazza Bicara Numero 51 Felici, felici A me piace giocare Allora ragazzi Da 50 ha ricevuto un regalo anonimo Quindi chi l'ha fatto Ha speso i soldi per niente Come ti chiami? Mary Mary, per sempre Da dove vieni? Vieni da Milano Cosa fai di bello nella vita? Fa psicologo Qua potresti avere tanti clienti Quindi se volete Dare il lavoro a Mary A psicologo Vedete qua Anche venite da Milano Allora quando Come vorresti un uomo ideale? Cosa amare? Grazie 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 Grazie